Siamo con Salvatore Trimarchi, difensore dello Sparagonal, 3-1 con il Pompei, una vittoria importante per la vostra classifica. Buongiorno a tutti, una vittoria importantissima, per noi facciamo un piccolo balzo in classifica, ci pagano questi sacrifici che facciamo, oggi si è visto il risultato, durante la settimana lavoriamo intensamente e quindi domenica siamo portati a cercare di fare il risultato. Oggi ci siamo riusciti con un'ottima squadra del Pompei, ottimi elementi, bravissimi ragazzi, hanno giocato fino al 95esimo giocando a calcio, questo è l'importante, giocare a calcio, 3-1, certo loro ci hanno messo anche in difficoltà, ma noi abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate. Secondo te quest'anno lo Sparagonal e il campionato lo potrà fare? Alla luce anche di questi risultati iniziali? Ma intanto iniziamo il campionato per divertirci come ogni anno, siamo un gruppo di amici, lo dimostriamo in campo e fuori dal campo, un campionato normale, intanto lottiamo per la salvezza come ogni anno, poi quello che verrà ci prendiamo, speriamo che sia un bel campionato. Questi derby stanno aiutando questo torneo secondo te? Il torneo è bello perché ci sono un sacco di derby, è normale che qua sulla Riviera ci conosciamo un po' tutti, quindi il giorno che hai il derby si sente, però poi vince sempre il migliore, ci rispettiamo tutti e quello è l'importante.